E' stato depositato nelle scorse ore l'appello dei PM di Potenza in merito alle misure cautelari non applicate. Parliamo dell'inchiesta che ha visto coinvolto il giudice Rede ed altri indagati tra avvocati e commercialisti e che parla di consulenze pilotate in seno al Tribunale fallimentare di Lecce. Una vicenda questa che potrebbe continuare a far registrare risvolti nelle prossime settimane, poiché le indagini non sarebbero ancora concluse e nei fascicoli numerosi sono gli omissis che oscurano diversi passaggi. Intanto la procura di Potenza ha chiesto oltre al carcere per Rede e Bellantone e Russi anche i domiciliari per Sivestini e Casilli che al momento risultano solo indagati. Ha deciso intanto proprio in quest'ora di rinunciare a tutti gli incarichi attualmente in fase di svolgimento concessi al Tribunale di Lecce Massimo Bellantone, uno dei commercialisti indagati e dal momento ai domiciliari finito nel blitz delle scorse settimane. Bellantone, infatti, assistito dall'avvocato Amilco Letana, avrebbe ricevuto, secondo l'accusa, alcuni provvedimenti in modo non trasparente e pilotato. Chiave nella ricostruzione dei fatti sarebbero state le deposizioni ed i faldoni consegnate alla procura di Potenza da Giancarlo Mazzotta, che proprio in tempi recenti avrebbe integrato quanto prodotto nei mesi scorsi con ulteriori documenti in suo possesso. Grazie. Grazie.